se fossi nel 96 me ne andrei qua in giro me ne andrei qua in giro a per palestrina mezza la strada si praticamente mezza la strada c'è stava mezza macchina c'è stava mezza macchina c'è se si metteva a giocare per strada c'è potrei giocare anche oggi in giro si potrei farlo però intanto se stai da solo con chi vai a giocare te ne vivi come me in un angolino un angolino di palestrina che sta attaccato a gallica non c'è sta nessuno a parte lei quindi o mi metto a giocare wireless con i miei amici wireless un tuffo nel passato guardi da rivedere cosa vuoi? ripetiamo il passato un tuffo negli anni il ritorno al futuro il figlio c'è proprio c'è il pathos grazie a tutti Grazie a tutti.